Che domanda mai vi hai fatto? Cosa ti dirisci? Vabbè capire in cazzo! Come ti dirisci? Però se tu proprio dirisci... Rompicoglioni civico! Certo, perché non essendo iscritto all'albo, avendo però vinto i tre primi giornalistici più importanti, già questa è una cazzata allucinata, cioè vuol dire che o non avevano meglio da fare, oppure evidentemente se premiano uno che non è iscritto all'albo, c'è qualcosa che non va, allora vuol dire che l'albo non serve una mazza, di fatti quando io andai a ritirare questi primi, dissi agli astanti presenti giornalisti siete una manica di venduti e vi spiego il perché, perché se uno stronzo come me è diventato famoso, lo è diventato non perché è uno strafigo, beh in effetti posso anche eserlo, non per quello, ma perché fa determinate domande, perché io sono diventato famoso per le domande che faccio, bene in un paese civile tutti i giornalisti dovrebbero fare le domande che fa il salvi, mentre invece se sono diventato famoso era perché evidentemente ero l'unico che le faceva, ecco dove c'è qualcosa che non va, perché i giornalisti non fanno le domande che devono essere fatte, per cui non sono io che sono bravo, siete voi che siete venduti i giornalisti, per cui non so come definirmi, rompi i coglioni civico è un'etichetta che mi sono trovato perché io mi avvalgo dell'articolo 21 della Costituzione che mi permette di poter fare informazione come io desidero, conseguentemente senza la necessità di essere iscritto alla lobby del vuoto, cioè i giornalisti. Sincerissimamente non mi pongo il problema perché siamo, il mio percorso contro il potere è iniziato molto tempo prima di quanto, con striscia la notizia, di quanto non iniziasse quello di Beppe Grillo. Io ho avuto, lui però è uscito molto prima di me dal circuito televisivo. Io ho avuto poi dei problemi con Ricci, il quale mi impedì di fare due inchieste contro Berlusconi e contro Maroni per due vicende che definirei alquanto oscure, poco chiare, il solo fatto che non mi fece fare per la prima volta l'inchiesta significava che ci avevo visto giusto, difatti una riguardava Frigerio, poi eventualmente ti risponderò dopo, per cui l'essere stato allontanato da striscia la notizia perché evidentemente non mi rinnovarono il contratto perché dissi a Ricci quello che pensavo di lui, che era un venduto, mi mise nella condizione di non avere la possibilità che mi riproponessero il contratto per il rinnovo. conseguentemente io sono partito prima contro il potere politico, lui però è partito prima dal punto di vista teatrale, dal punto di vista degli spettacoli.